In partenza, veloce Oliver Font che supera Matrix Serial ma c'è la gran partenza di Liberto che in 100 metri scarsi dalla seconda fila riesce a sfondare su Oliver Font, terza posizione per Matrix Serial, poi Paterlun, via via tutti gli altri. 200 iniziali con Liberto che ha messo in campo il suo parziale iniziale, 14-1 dal 12 e ora conduce nei confronti di Oliver, Matrix Serial, Paterlun, mentre all'esterno cerca di farsi luce Nino Lollider dopo 500 metri di gara. La quarta posizione dell'accordo invece è per Premier K, ora Nino Lollider cerca di portarsi a ridosso di Liberto che è in 47-1 in 600 e ha cercato di graduare. Il rientrante allievo di Marco Stefani che ora davanti alle tribune condusse Nino Lollider all'esterno, seguitore da Matrix Serial e quindi Penelope Sfa che ha incipito a Nicolas BF. All'accordo invece restano Oliver Font, Paterlun e Premier K, qui indietro in coda c'è Nino Bell, intanto 1-3-3 per gli 800 con Liberto che dopo lo stroppo iniziale ha portato a spasso la compagnia e arriva al chilometro in 1-19-3. Ora c'è la mossa in terza ruota da parte di Matrix Serial che anticipa Penelope Sfa, i due cercano di portarsi sulla testa, ora però Liberto accelera sensibilmente, si trascina sempre Oliver Font, 400 alla conclusione con Liberto che cerca la fuga. Matrix Serial sulle sue tracce insieme a Oliver Font si impegna all'esterno, ora Matrix Serial va su Liberto e attacca 300 dalla conclusione. Liberto si difende all'accordo a Oliver Font, gli altri più discosti, completamento della curva finale, ingresso in diretta d'arrivo, la squalifica intanto per Nino Bell, ultimi 150 di gara con Matrix Serial che insiste su Liberto. Attacco di Matrix Serial, Liberto però si difende, Liberto e Matrix Serial alle prese, Liberto nel finale controlla fin sul palo tutti i tentativi di Matrix Serial con al terzo. Oliver Font avanti a Penelope Sfa, 1-16-3, 28-9 però per gli ultimi 400, sfortunato anche in questa circostanza, Matrix Serial ma ottimo rientro quello di Liberto che una volta al comando ha poi fatto i giochi per 1200 metri, controllando poi nel ottimo finale tutti i tentativi di Matrix Serial, terzo posto più indietro per Oliver Font.